Questa bella animazione sempre di Mogivice, Vicentini, descrive il moto retrogrado spiegato con il modello di Copernico. Vediamo che la Terra supera il pianeta dall'interno e la proiezione del pianeta sullo sfondo delle stelle fisse sembra andare indietro. Quindi il pianeta descrive la sua proiezione apparente in modo retrogrado all'indietro, mentre intanto prosegue in modo diretto lungo la fascia dello zodiaco. Ecco, questa è la spiegazione corretta odierna del modo retrogrado. Quindi, sistema di Copernico, il Sole al centro dell'universo, la Terra supera un pianeta dall'interno e il pianeta sembra andare indietro.